Svariate riunioni a distanza per programmare al prossimo futuro, il supporto agli oratori in occasione dei centri estivi da riproporre anche nel 2021 e nuove idee in cantiere da realizzare in virtù del gemellaggio con Brescia. È stata un'estate tutt'altro che vuota quella del CSI Valle Camonica che a seguito dello stop all'attività sportiva si è rimboccato le maniche per supportare il territorio a bozzare l'imminente ripartenza. Il blocco camuno del centro sportivo italiano in attesa delle nuove linee guida per la ripresa che dovrebbe avvenire attorno alla metà di ottobre, grazie al supporto di comunità montana e ai fondi messi a disposizione dal CSI Lombardia, ha deciso di utilizzare un quarto del proprio bilancio per azzerare le quote di iscrizione 2020-2021 e favorire così la partecipazione delle squadre. È stata un'estate molto impegnativa per il CSI Valle Camonica, a parte le riunioni di programmazione che si sono susseguite per diverse settimane, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale, ma abbiamo avuto una bellissima esperienza con un gruppo di ragazzi che ha seguito gli oratori con i centri estivi. Una bella esperienza che è durata un mese, praticamente il mese di luglio e da questo poi nascerà un progetto che riproporremo l'anno prossimo, sperando in un'estate normale, non come quella di quest'anno. Quindi non siamo stati fermi, non siamo stati fermi neanche per la programmazione perché come associazione noi vogliamo ripartire, abbiamo preparato tutto per poter riprendere l'attività sportiva e lo faremo a metà ottobre, salvo altri imprevisti che possano fermare ancora lo sport. A metà ottobre ripartirà il calcio da pallavolo, le iscrizioni entro la fine di settembre, ma noi già a metà settembre con un sondaggio vorremmo capire dalle società sportive le squadre che loro hanno intenzione di iscrivere e soprattutto i problemi che hanno nel proporre l'attività sportiva, quindi palestre piuttosto che campi, spogliatoi oppure anche i problemi con i dirigenti, gli allenatori, i genitori, quindi capire un po' qual è la situazione e lo faremo con questo sondaggio a metà settembre. Poi speriamo di poter ripartire, non siamo stati fermi anche con le altre attività sportive perché ad esempio il tennis tavolo proporrà un campionato provinciale assieme al CSI di Brescia, quindi è nato questo gemellaggio sportivo con Brescia e proporremo questo campionato provinciale, c'è già il regolamento, mancano solo le date. Anche per la palla a canestro si pensa a fare qualcosa insieme a Brescia, quindi saranno un paio di tornei che noi faremo insieme agli amici del CSI di Brescia. Per il resto aspettiamo, aspettiamo che arrivino i protocolli sportivi che ci diano la possibilità di ripartire. Per questo il 28 agosto c'è un consiglio regionale CSI Lombardia che definirà in grandi linee quali sono le proposte per poter ripartire a fare i campionati, a fare i tornei, a fare i trofei. Dall'inizio di settembre quindi le società sportive conosceranno quali sono le condizioni per poter affrontare i campionati. Quindi noi abbiamo preparato tutto, speriamo che la fortuna questa volta ci assista un po' di più e si possa ricominciare a fare sport all'aperto e nelle palestre.